Musica Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium stasera si affronteranno per il torneo del mondiale Russia-Argentina le squadre fanno il loro interesse in campo e si posizionano al centro del terreno di gioco momento di fair play tra le due formazioni L'abitro Sandro Stanziano chiama se i due capitani per il sorteggio della palla del campo tutto pronto, buon divertimento Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.